Guardarsi negli occhi. Ci siamo guardati in faccia, siamo affrontati, ci siamo parlati. L'ho visto per la prima volta la verità. Sei tu che sei pieno di sovrastrutture. Per dirsi la verità. Io ho una chiara antipatia nei tuoi confronti. Oh, perfetto. Allora grazie finalmente di aver parlato chiaro. E aprire il proprio cuore. Riguardami, siamo. In quattro al televoto. Chi vuoi salvare? Grande fratello, piccolo. Venerdì in prima serata su Canale 5.